ho fatto un ordine da esseri animali e mi è arrivato questo pacco all'interno oltre all'oggetto ordinate ho trovato anche un deprian e non solo c'era un adesivo un segnalibro e ovviamente la maglietta da me tanto attesa questo è subito in macchina solo quelli che sono così folli da pensare di cambiare il mondo lo cambiano davvero albert einstein quando vedo del bacon vedo un maiale vedo un piccolo amico ed è per questo che non posso mangiarlo tutto qui paul mccartney riusciresti a guardare un animale negli occhi e dirgli il mio appetito è più importante della tua sofferenza moby mi sono resa conto che anche mangiare uova e latte comporta per gli animali sofferenza e sfruttamento al pari che finirei in un piatto sotto forma di bistecca paola mauceri credo fermamente che una dieta totalmente a base vegetale possa allungare la vita e rendere una persona più sana e felice ariana grande nessuno di noi agisce davvero come se fossimo nel pieno di una crisi ho smesso di mangiare carne latticini e di usare e comprare cose nuove dobbiamo comprendere l'emergenza della situazione greta tamberg in genere si pensa che la carne non abbia nulla a che fare con gli animali la gente non si rende conto del modo raccapricciante e spaventoso in cui gli animali finiscono nel piatto morisi morisi sono vegano rispetto all'ambiente e faccio del mio meglio per diffondere l'importanza di tale problema jared leto non farei mai del male a un cane o a un gatto a un pollo o a una mucca e non chiederei a qualcun altro di farlo al posto mio per questo sono vegan peter d'inglese grazie per quello che fate essere animali